Il successo di ogni in questo GP del Brasile in un round che doveva essere favorevole a Lando Norris invece si ritorce contro il pilota inglese perché Max Verstappen compie la rimonta del secolo e riesce a vincere una gara partendo dalla diciassettesima posizione in griglia. Norris invece al contrario si dimostra ancora un pilota non pronto per competere a così alti livelli nonostante la macchina sia decisamente migliorata. Verstappen comunque è bravo e fortunato a sfruttare le condizioni giuste per un'epica rimonta e interrompe un digiuno che durava da dieci gran premi in un GP del Brasile che già dalla partenza ha regalato follie e cose di cui raccontare. A cominciare dall'ennesima partenza sbagliata di Lando Norris che in qualificazione è un mostro. In partenza in questo caso fa una partenza più conservativa del normale. George Russell si infila in curva 1 in modo regolare e Norris calcolando che appunto Verstappen partiva diciassettesimo causa una penalizzazione di cinque posizioni dopo la qualificazione della gara vera è evidente che puntava a una prima parte di gestione per poi affondare. Il layout del CP del Brasile lo conosciamo, è una pista ad alto carico soprattutto con il bagnato e McLaren soprattutto nella parte mista con Norris ne aveva decisamente di più. Norris invece peccava nella fase di accelerazione e di velocità pura però comunque sulla carta McLaren doveva e poteva fare di più e invece uscirà con le ossa rotte da questo gran premio del Brasile che appunto sulla carta poteva essere favorevole per riaprire totalmente il mondiale piloti anche dal punto di vista matematico e invece con quello che è successo la speranza si è letteralmente affossata così come si affossa Carlos Sainz per quanto riguarda la Ferrari in una gara per la rossa abbastanza anonima una safety car viene causata da questo incidente al quarantesimo giro Sainz in realtà navigava a vista a metà gruppo perde la macchina in condizioni di pista molto pericolose comunque con una pioggia parecchio insistente lo spagnolo va a muro viene creata una safety car che in questo caso favorisce Max Verstappen che ha usufruito peraltro da bandiera rossa precedente per scarsa visibilità e questo ha danneggiato anche altre scuderie ma non solo evidentemente Verstappen ne ha beneficiato però comunque la safety car che vediamo qui sarà quella che permetterà al piatto olandese poi di sbarazzarsi di Ocon e di vincere il Gran Premio in tutto ciò alla ripartenza mentre l'orandese si sbarazza di Esteban Ocon su Alpine Landon Orde scommette l'ennesimo errore della sua stagione finisce per campi perde una marea di posizioni e di conseguenza il gap di punti rispetto a Max Verstappen va addirittura aumentando Max Verstappen che poi dopo aver superato Ocon imprimerà un passo irrangibile per chiunque altro e alla fine andrà a dominare una gara che sembrava letteralmente compromessa vista la posizione di partenza e la pioggia che poteva essere un'incognita Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta di quanto ci sta mettendo tanto del suo in questa fase della stagione al cospetto di una macchina la Red Bull che non è più la dominante di inizio stagione e lo rivediamo anche poi nella prestazione anonima ancora una volta di Sergio Perez che peraltro ha rischiato di essere battuto anche dalle due Racing Bulls la squadra satellite Verstappen invece da fenomeno qual è per quanto antipatico sta veramente dimostrando di meritarsi questo quarto titolo del mondo consecutivo in un podio peraltro che ha del poetico perché è vero vince Max Verstappen e per l'ennesima volta suona Het Wilhelmus lì nazionale olandese ma abbiamo per la prima volta nella storia due Alpine sul podio con due piloti che si detestano perché sappiamo che Ocon e Gasly non sono amici semplicemente sono colleghi che tendenzialmente a volte si mandano anche a quel paese vedi il grande episodio grave di Ocon che ha tamponato Gasly a Monaco e questo ha costato il posto a Gasly per l'anno prossimo in Alpine ma il francese col numero 31 batte quello col numero 10 Ocon è secondo e bissa diciamo il podio dell'anno scorso in Ungheria in questo caso però in uno secondo gradino e Gasly invece anche lui torna sul podio dopo esattamente un anno per un Alpine che sul bagnato ha sfruttato un po' come Verstappen la condizione di fortuna di questa bandiera rossa che ha stoppato la gara quando gli altri piloti in realtà si erano fermati quelli di testa in quel caso erano Russell e Norris appunto le due Alpine e Verstappen invece con la bandiera rossa fanno un pit stop gratis e il podio è esattamente quello che vediamo Verstappen primo Gasly secondo Ocon ovviamente scusatemi Ocon secondo e Gasly terzo il francese con il numero 31 è di fatto a quota 23 punti al termine di una gara folle al netto che appunto questo podio di Alpine è altamente sporadico stesso discorso per invece Gasly che appunto di punti ne ha 26 ma parliamo di piloti che sono evidentemente a metà del gruppo invece quello che esce più rafforzato di tutti è Max Verstappen che in questo caso dobbiamo insegnirli il premio di Driver of the Day perché appunto partiva 17esimo nella qualificazione dopo appunto la gara sprint è riuscito a rimontare sfruttando anche la situazione di bravura e fortuna evidentemente della bandiera rossa per scarsa visibilità si è sbarazzato perfettamente di Ocon e ha fatto una rimonta che difficilmente si vedrà per altro tempo da 17esimo a primo era una cosa veramente clamorosa e appunto bisogna celebrare Verstappen a maggior ragione che veniva da un periodo di tra virgolette crisi con delle non vittorie da Barcellona in avanti certo qualche podio è arrivato vedi Singapore vedi Austin Texas ma questa vittoria veramente è quella che mette la pietra tombale evidentemente su questo mondiale che era già chiuso in realtà in partenza perché Norris ripeto non è ancora pronto per vincere però se c'è una mezza speranza di riaprirlo evidentemente Verstappen l'ha fugata con questa grande vittoria senza se e senza ma il podio l'abbiamo visto con appunto in seconda posizione Esteban Ocon 22 punti in campionato della ripresa francese terzo è Pierre Gasly che anche lui torna sul podio dopo Monaco dell'anno scorso la delusione del giorno in realtà è chi è arrivato sesto ovvero appunto Lando Norris perché parti dalla pole position il tuo rivale per il mondiale piloti è merdesimo in una pista a te favorevole visto l'alto carico sul bagnato non solo non riesce a convertire l'ennesima position in giro in testa dopo appunto il primo passaggio ma sbagli finisce addirittura per campi e perdi altri punti quindi con tre gare dal termine Las Vegas Qatar e Abu Dhabi il mondiale è bello che è finito per quanto riguarda i piloti per i costruttori invece ne possiamo parlare perché diciamo che in questo caso la Red Bull qualcosa guadagna vista la grande prestazione di Verstappen Ferrari e McLaren invece hanno fatto un po' la gara del gambro si sono tolti i punti a vicenda di conseguenza quello invece è apertissimo a tre gare dalla fine in mezzo invece tra Lando Norris e i piloti di qui sopra abbiamo chi è arrivato in quarta posizione ovvero George Russell che era primo prima della bandiera rossa poi appunto è scalato indietro appunto per questa dinamica quinto a posto invece per Charles Leclerc l'unica Ferrari in gara Leclerc ha fatto una discreta gara in modo di vedere non poteva fare secondo me però molto di più si sapeva comunque che in Brasile anche con la pioggia la Ferrari non aveva tante tante chance sesto è Lando Norris appunto già detto delusione del giorno senza se e senza ma settimo è Yuki Tsunoda che addirittura partiva dalla terza posizione ha sognato il podio per certi versi in questa gara folle del GP del Brasile Tsunoda porta punti fondamentali per il team Vicarb insieme anche a un altro pilota di cui parleremo tra poco in ottava posizione invece abbiamo Oscar Piastri che in realtà in pista sarebbe arrivato davanti a Tsunoda ma viene penalizzato e di conseguenza l'australiano scala in ottava posizione anche Piastri va detto e tutta la McLaren sono stati oltre modo udenti in questa gara che dovevano capitalizzare almeno per il mondiale ai costitutori invece non lo hanno fatto nono è Liam Lawson il pilota che è specializzato in arrivare a fine stagione era arrivato a fine stagione anche l'anno scorso e ha fatto vedere tante cose interessanti con due gare su cinque in zona punti qui fa due gare su tre a punti nono posto ancora una volta grande apprezzazione per il pilota neozelandese che ovviamente sarà in Formula 1 anche il prossimo anno e per fortuna per un parco partente della Formula 1 che si andrà via via rinnovando chiude la zona punti Luis Hamilton gara invece deludente per il pluricampione del mondo in una pista e un layout che dovevano favorirlo soprattutto anche per la condizione visto che Hamilton sotto la pioggia è sempre stato un mago sempre stato furtissimo invece Hamilton ha veramente sbagliato lo sbagliabile una Mercedes in disarmo la sua era inguidabile soffriva di tanto bouncing Hamilton non poteva fare ovviamente più di così in questo momento però gara oltre modo devodente per colui che comunque ha vinto due gare in questa stagione una stagione di Formula 1 che appunto vede ancora una volta Verstappen vincitore perché non vedo come Max Verstappen possa non vincere questo mondiale un Norris che ha provato evidentemente a reggere e a fare qualcosa di più è ancora un po' acerbo per questi altissimi livelli poteva concretare molto di più Leclerc ha una vettura altalenante quindi non può sempre fare quello che ha fatto in altre gare più importanti in questa stagione e di conseguenza Verstappen anche gestendo può tranquillamente portarsi a casa il suo quarto mondiale certo la Red Bull non è più la macchina dominante come evidentemente lui era all'inizio della stagione e quindi probabilmente anche per l'inizio del prossimo anno sarà importante da che punto potrà partire al netto che sulla carta Verstappen è sempre favorito per il mondiale per quanto riguarda la qualità come pilota come scuderia però la Red Bull non è sempre più dominante se la potrà giocare con McLaren e Ferrari non adesso invece che manca un tre gare alla fine Verstappen probabilmente andrà a vincere il quarto mondiale si giocherà tanto invece per il mondiale costruttore dove la McLaren è prima con la Ferrari seconda e la Red Bull terza ma la Red Bull ha un aggravante cioè che corre con un pilota solo anche quest'oggi Sergio Perez evanescente e le voci su una stituzione del pilota messicano sono giuste e mi auguro che venga stituito perché è un pilota letteralmente in disarmo per una Red Bull che poteva vincere ancora una volta due mondiali e probabilmente ne vincerà uno solo mancano tre appuntamenti al termine di questa stagione di Formula 1 fatta da 24 gran premi si correrà il 23 di novembre a Las Vegas per poi una tripletta che si concluderà con Qatar e Abu Dhabi vedremo quali gare ci offriranno per eventualmente ultimi episodi di Racing Podcast per quanto riguarda la Formula 1 invece il prossimo appuntamento per quanto riguarda il canale sarà il 6 novembre ma parleremo di baseball, parleremo della Zero to Hero Challenge torna la serie gameplay con le mie teleconiche su MLB The Show 2024 vi aspetto quel giorno lì alle ore 19 questa invece è la conclusione di questo Racing Podcast il saluto da parte di Matthew Tower Guard ci vediamo a un prossimo video